Primo set alza il pallone Erwin Gappé, Colaci fa il miracolo, Leon attacca! Questa è l'iniezione di fiducia di cui avevamo bisogno, bravi, bravi tutti! A partire da Max Colaci che ha fatto una ricezione pazzesca! Max Colaci ha annullato un Gappé e poi Leon ha sbranato il pallone posandolo dall'altra parte con la sua delicatezza e ve lo lascio solo immaginare! 9 per 1 Colaci alza il pallone, l'euro per il fischio dell'arbitro, dall'altra parte la prende Vargander, è incredibile, Bruninho si arrampica, non può attaccare e allora Sole, Giannelli, abbiamo una free ball, Anderson deve correggere il tiro, dall'altra parte è Modena, free ball per loro, adesso un Gappé, Colaci! La difesa supersonica del nostro Max, attacca Riclischi, le mani del muro fuori, Max, Max una statua! Una statua per Max! A Perugia la prossima statua è per Max Colaci! 11-12, la difesa, la difesa del nostro...